e alle persone che ne hanno bisogno. Lei è contento di quello che ha fatto il governo, Bitonci? Assolutamente no. Ma bisogna secondo me sfatare quello che è stato detto soprattutto dal Premier Conte l'altro giorno che parlava di un grande intervento da 750 miliardi. Però è giusto, penso che sarà confermato anche da chi poi mi seguirà in questo ragionamento, che bisogna chiarire alle persone che una cosa sono i 350 miliardi che sono soprattutto la moratoria dei mutui, una parte molto minore della cassa integrazione che assolutamente questa è positiva per più di 8 milioni di lavoratori e speriamo che sia erogata velocemente perché da quello che io so la Regione Veneto ha fatto degli accordi con il sistema bancario non so poi le altre regioni a livello nazionale. c'è questo contributo dei 600 euro ai professionisti, agli autonomi che insomma dal mio punto di vista è una mera elemosina visto quello che è successo e visto anche le chiusure che hanno dovuto sopportare questo mese e nei prossimi giorni. Il governo ha promesso altri 800 euro al prossimo mese però ovviamente dovremo verificarlo con il decreto. Poi c'è questo secondo decreto che è stato approvato qualche giorno fa e anche qui il governo parlava di altri 400 miliardi però che sia estremamente chiaro per chi conosce gli strumenti di carattere finanziario. In realtà se andate a guardare il decreto e le coperture perché è importante quando si guarda una norma soprattutto di carattere finanziario si guardano le coperture e verificando le coperture c'è ben poco nel decreto e di questo non eravamo sicuri perché comunque il Parlamento ha autorizzato l'utilizzo dell'indebitamento quindi del debito pubblico per parlare in maniera molto così semplice fino a 25 miliardi. In questo decreto c'è un miliardo per 2 miliardi praticamente per saccia di copertura e l'effetto di cui parla Conte è un effetto ben noto che è il moltiplicatore che va da 10 a 12 in questo caso il governo calcola quasi a 20 volte che viene assistilizzato nei sistemi di garanzia. Cioè per chi ci ascolta vuol dire che per ogni euro che si mette in un fondo di garanzia si coprono 20 euro in questo caso per dare garanzia attraverso i vari sistemi quindi attraverso SACE alle imprese. Allora c'è questo piccolo credito e quindi questo finanziamento che viene dato fino a 25 mila euro per i piccoli e delle somme direi più importanti per le imprese. Però sono sempre debiti, cioè parliamo sempre di somme e quindi io che svolgo ancora la professione di commercialista che ho ancora lo studio ma ho sentito tantissimi colleghi durante questo mese il problema delle nostre aziende è un problema certamente di liquidità quindi immediato però è un problema anche legato al successivo indebitamento cioè stanno valutando le aziende se indebitarsi ancora perché comunque saranno dei debiti e delle coperture di carattere finanziario che andranno poi ripagate nel corso degli anni oppure no quindi è una cosa assolutamente da valutare. Molto meglio e come stanno facendo altri stati perché ricordo quello che stanno facendo gli stati uniti d'America ma anche la stessa Svizzera ma anche in Inghilterra dove danno dei contributi a fondo per tutto quindi una cosa sono i contributi a fondo per tutto e che dal punto di vista economico è una misura diciamo come la misura chinesiana quando si mettono dei soldi per fare delle infrastrutture anche questa è una misura che andrà fatta in futuro si chiama elictopter money cioè che è stata teorizzata da Friedman nel 1969 cioè dare dei soldi a fondo per tutto alla gente in maniera quasi così a pioggia per quello elicopter money in modo che questi soldi vengano utilizzati per aumentare i consumi quindi questa sarebbe stata una misura questi 750 miliardi di cui parla Conte in realtà se andiamo a vedere le coperture delle norme e dei decreti non ci sono Bitonci le faccio una domanda lei è stato al governo fino a poco tempo fa secondo lei il governo italiano può fare quello che sta dicendo lei cioè o è indebitato e non può farlo perché tra il dire e il fare come si dice sei di mezzo il mare lei è stato al governo secondo lei questo governo può fare quello che lei ha detto e se sì perché non lo ha fatto perché mi sembra semplice la domanda beh intanto c'è qui sono quei 25 miliardi si può andare tranquillamente in Parlamento per ottenere un'altra importante votazione noi la voteremo sicuramente per arrivare fino a 50 o 100 miliardi con questa somma si possono tranquillamente dare delle risorse a pioggia sia ai cittadini che alle imprese e poi c'è tutto il sistema c'è tutta la questione legata a quello che succederà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane a livello di Consiglio europeo cioè dal mio punto di vista Conte ha alzato un po' troppo l'asticella perché ha detto o si fanno gli euro bond oppure noi andiamo insomma per conto nostro e su questo penso che io vedo una grande difficoltà da parte degli altri paesi di accettare una richiesta così transciante da parte del governo italiano altra soluzione che noi abbiamo proposto e che potrebbe essere assolutamente perseguibile è l'immissione di un'ulteriore, un'obbligazione che può essere tranquillamente di 100 miliardi ha un tasso particolarmente agevolato magari utilizzando anche è una proposta che avevo fatto io da sottosegretario ancora un anno e mezzo fa utilizzando l'emersione ricordiamo a chi ci ascolta che ci sono quasi 150 miliardi nei conti correnti e soprattutto nelle cassette di sicurezza che potrebbero tranquillamente emergere e quindi diventare utilizzabili anche per la liquidità sia personale che aziendale quindi con una sottoscrizione obbligatoria di queste obbligazioni di carattere statale e quindi un sistema anche questo per risolvere il tema dell'indibitamento e del finanziamento di manovre che devono essere assolutamente fatte a pioggia sulle aziende e sulle persone fisiche perché io penso che dopo avrete anche il presidente del Last Converti qua da voi vi dirà che non bastano solamente i prestiti non bastano le garanzie che le perdite del settore per esempio commerciale sono perdite reali e se i dati arrivano reali ma penso che lo siano si parla dai 40 ai 45 miliardi al mese di perdita del prodotto interno lordo e sapete benissimo e questi sono i numeri che se c'è una perdita del 10% del PIL nazionale si va sui 150 miliardi perché questi sono i numeri quindi una misura di questo tipo una copertura solamente dal punto di vista delle garanzie bancarie e finanziarie dal mio punto di vista è assolutamente insufficiente Allora chiedo davvero rapidità perché avremo anche altri collegamenti qui da Tonino, Pipitone e anche Marco Schiesara che vogliono fare delle domande a Massimo Bitonci chiedo gentilmente a tutti si sente rapidi perché ovviamente il tempo televisivo è un tempo tiranno Due cose a Massimo Bitonci che saluto la prima vedo che è molto se posso mi sembra una posizione alquanto morbida diciamo sulla posizione di Conte che addirittura ha criticato perché troppo come dire sta tirando troppo la corda con l'Europa quindi nel senso che voi sareste favorevoli anche a utilizzare i famosi fondi del MES se non avessero la limitazione della Troia sostanzialmente perché l'Europa ha detto prendete i soldi del MES per utilizzarli per questioni sanitarie questa è la prima cosa la seconda questione che riguarda l'ha già detto un po' il direttore cioè dare i soldi a fondo perduto alle aziende che sarebbe la cosa più bella del mondo il problema è questi eventuali fondi parlavi di 25 miliardi più altri eventualmente 25 da finanziare a fondo perduto ma questi fondi poi andrebbero ad aumentare il debito pubblico e quindi comunque a pagarla tutti i cittadini oppure pensate altre strade allora per quanto riguarda il ex fondo salva stati che attualmente viene chiamato o MES ma più o meno è la stessa cosa noi continuiamo a ripetere io sono convinto del fatto che intanto che ci diano di ritorno quei 14 miliardi che sono stati messi all'interno del MES e sono stati che sono assolutamente inutilizzati io sono assolutamente contrario e feci l'intervento potete guardarlo nell'anno 2012 quando ci fu l'istituzione del 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 MES e feci l'intervento alla Camera in dichiarazione di voto per tutto il gruppo della Lega e se andate a guardarvi quell'intervento vedete quanto quell'intervento è attuale perché già a suo tempo io ripetevo che aderire al MES voleva dire mettere un cappio al collo al bilancio e al futuro e all'espansione dell'Italia cioè dei vincoli e delle condizionalità così forti come ci sono all'interno del MES e lasciamo stare la proposta che c'è adesso perché puramente per le spese di curatore sanitario che sono una minima parte rispetto alle spese e gli investimenti che devono essere fatti nel settore produttivo e economico quindi non si parla di qualche miliardo delle spese sanitarie che possono essere tranquillamente coperte con l'attuale indebitamento e con le manovre fatte attualmente dallo Stato parliamo dell'altra parte del MES cioè quello che poi porta a delle condizionalità molto precise che possono essere il taglio delle pensioni che possono essere delle misure di carattere fiscale cioè la patrimoniale e Pipitone sa benissimo che all'interno del PD c'è una componente che sta già parlando siamo assolutamente contrari siamo assolutamente contrari quindi c'è una dialettica interna al Parlamento soprattutto dalla sinistra dall'estrema sinistra al PD che vuole una tassazione dei conti correnti o del patrimonio dei cittadini che sarebbe una cosa secondo me dal punto di vista anche fiscale pazzesco perché invece bisognerebbe operare verso una rinunzione complessiva delle tasse per quanto riguarda l'altro tema l'Italia può emettere dei titoli può emettere dei titoli a copertura del debito pubblico tutti gli stati anche gli Stati Uniti dell'America fa ricorso a nuovo debito pubblico loro lo fanno attraverso lo pagano tutti insomma loro possono stampare moneta perché in realtà una facoltà che noi non abbiamo è quella la possibilità di stampare moneta quindi dobbiamo farlo attraverso una manovra che può essere a livello europeo cioè una copertura della banca centrale europea di obbligazioni che possono essere tranquillamente emesse anche dalla nostra ovviamente banca centrale e possono essere rivolte a chi dicevo prima chi ha dei soldi da investire con delle condizioni particolarmente favorevoli questa è una possibilità che c'è e che penso che possa essere assolutamente corta Marco Svesaro se sei rapido alla domanda Massimo Bitonci sì una cosa veloce oltre che salutare Massimo Bitonci e trovarmi praticamente d'accordo ciao Massimo sulla linea espansiva hai accennato imprese lavoratori e secondo me una terza linea potrebbe essere molto interessante almeno io lo vedo dal lato sindaco che i comuni andranno in grossa difficoltà nei prossimi mesi perché le entrate almeno i bilanci che noi abbiamo approvato solo un mese fa dovranno essere completamente rivisti è chiaro le entrate fiscali non entrano e io come sindaco ma molti sindaci che conosciamo non vogliono andare a infierire naturalmente nelle tasche dei concittadini e non dobbiamo mettere naturalmente le mani in tasca ai cittadini dare loro la possibilità di sopravvivere anzi di ripartire però il governo dovrà dare una mano e penso che anche qui forse una grossa partita dovremmo giocarla cioè devono dare l'infa alle casse dei comuni e riprendere quella bella prassi che avevate iniziato voi proprio un anno fa cioè dare della liquidità pronti partenza via per le opere pubbliche ma il tema dei comuni è estremamente delicato però può essere anche una chiave di volta di ripartenza importante io prima parlavo della politica monetaria però c'è anche la politica keynesiana e la politica keynesiana l'investimento la possono fare assolutamente i comuni abbiamo 8 mila comuni in Italia l'esperienza dello scorso governo ha dimostrato che quando si mette noi abbiamo messo quasi un miliardo in due tranche a disposizione dei comuni e questi soldi sono stati completamente consumati c'erano dei termini molto stretti molto stretti per poter far domanda e poi utilizzare attraverso anche piccole opere pubbliche però ovviamente il comune anche quando realizza una pista ciclatile una rotatoria sistema una scuola fa una manutenzione di una strada di un ponte e penso anche alle province quante infrastrutture hanno ancora in capo senza avere assolutamente risorse cioè dando dei soldi ai comuni è logico che è una importante misura di rilancio dell'economia perché i comuni gli 8 mila comuni d'Italia li spenderebbero in un tempo estremamente breve con delle politiche anche di carattere territoriale abbiamo un territorio estremamente fragile quindi anche politiche legate all'ambiente o alla scuola o alle infrastrutture anche agli impianti sportivi che mancano in Italia con tutti questi interventi sono politiche chenesiane di rilancio dell'economia quindi passata questa prima fase dove c'è certamente bisogno di liquidità c'è una seconda fase per far ripartire l'economia dopo i comuni avranno il problema delle entrate perché ed è un contenzioso che si aprirà io l'ho detto è una delle nostre proposte che abbiamo fatto anche al Senato dagli ammendamenti ovviamente non sono stati ma ne avevo parlato sia con Baretta che con Misiani anche recentemente perché io comunque cerco comunque di dare i suggerimenti a dei colleghi che tra l'altro con cui parlo molto spesso cioè il tema è quello della pace fiscale e si troveranno anche i comuni a un grande contenzioso relativo ai tributi che non vengono pagati quindi è da riaprire anche i termini della rottamazione terra Misiani ci sta già ragionando stanno ragionando su questo anche il governo del saldo estralcio e di tutto quel contenzioso legato anche alle tasse di carattere comunali perché molti cittadini non saranno in grado di pagare le tasse comunali quindi in futuro bisogna fare anche una definizione transattiva dei tributi comunali grazie Massimo Vitonci come sempre molto gentile nell'intervenire grazie buona serata a tutti grazie Massimo Vitonci abbiamo collegato se l'abbiamo ancora perché da molto tempo Andrea Ferretti economista e docente del corso di economia